La Commissione Bilancio della Camera ha licenziato, dopo molti contrasti, il testo della legge di stabilità. Diverse le modifiche apportate, le più importanti, riguardano la cosiddetta Web Tax. Non ci sarà l'obbligo di aprire la partita IVA per le società commerciali che operano in Internet. È saltato, invece, l'emendamento proposto dal PD sulla Tobin Tax, la tassa sulle transazioni nei mercati finanziari. Grazie al Fondo Tagliacuneo, finanziato con i risparmi dovuti alla spending review e con le maggiori entrate legate alla lotta contro l'evasione, la pressione fiscale verrà ridotta. Addio al bollo fisso sui conti bancari. Con l'approvazione della nuova legge di stabilità, tutti i risparmiatori pagheranno in maniera proporzionale alle somme investite. La scadenza della Minimu, invece, slitta al 24 gennaio e non saranno applicate sanzioni nel caso di errori relativi al versamento della seconda rata. Verranno inoltre prorogati gli aiuti alle imprese commerciali in crisi, mentre gli affitti non potranno più essere pagati in contanti. Previsti incentivi per il riammodernamento di stadi e impianti sportivi, via libera alla sanatoria per l'indennizzo sulla concessione delle spiagge. L'esame della legge ora tocca all'aula di Montecitorio.